Violenza sessuale, lesioni e sequestro di persone ai danni di una giovane donna residente in provincia di Isernia. Sono i pesanti reati che hanno portato alla condanna di un cittadino rumeno. L'uomo prima della sentenza si era dato alla fuga. A suo carico spiccato un mandato d'arresto europeo. Il provvedimento emesso dalla procura di Isernia ha fatto scattare le ricerche sul territorio dei paesi dell'area Schengen. Il latitante è stato rintracciato e arrestato in Germania lo scorso giugno. Nella mattina di ieri il rimpatrio in Italia ad attenderlo all'aeroporto di Fiumicino i poliziotti della squadra mobile di Isernia. Proprio in Molise, ospite delle patrie galere, il condannato dovrà scontare sei anni di reclusione. Si conclude così la vicenda giudiziaria che, a causa della fuga, si è protratta per lungo tempo. I fatti risalgono a otto anni fa. L'uomo, avvicinando la vittima con una scusa, l'aveva spinta a seguirlo all'interno della sua abitazione e, sotto la minaccia di un coltello, la costrinse a subire un rapporto sessuale. La donna, dopo esser riuscita a sfuggire alla morsa del suo aguzzino, si recò al pronto soccorso e, trovando la forza, un fatto tutt'altro che scontato, di denunciare l'accaduto alla polizia. Le indagini della mobile di Sernia hanno consentito di ricostruire con chiarezza l'accaduto. Robusto l'impianto probatorio nei confronti dell'uomo. Un fatto questo che ha indotto l'accusato a non attendere la sentenza e a rendersi quindi irreperibile. Di lì la vicenda delle complesse ricerche reste possibili dalla cooperazione internazionale della polizia. Insomma, c'è voluto del tempo, ma alla fine la giustizia ha fatto il suo corso.